La 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 6 e 1 6 e 1 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 Grazie. 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 Devi doppiare. Devi doppiare. Esatto. Brava. Vai a mezzo a distanza. Vai a mezzo a distanza. Mettala a destra. Più sciolto. Più sciolto e veloce. Bene. Cioè c'è quel faro, bisogna dire questo e mezzo. E come loro ha una posizione in mezzo, ma forse bisogna... Brava. Metti, metti le mani lì. Io dal centro non riesco a fare ripete. E poi se ti metti giù... No, è peggio perché c'è quel faro proprio che ti spunta. Alte qui se me lo metti più in giù. Lo ritrovo. Lascia ripeto andando a scuola. Sì. Metti lo sto montando e mai che non ti scende tanto in avanti. Vai. A pizza. Ecco. Rimagano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Adesso. Non lo lasciare, non lo lasciare. Guarda dove metti le mani. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. , grazie a tutti. 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 a tutti.